Barbara Tamborini, sorrido perché loro sono una coppia splendida, psicopedagogista e Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, ben trovati, sposi da vent'anni, Alberto scrive su famigliacristiana.it, hanno scritto molti libri dedicati a genitori e figli tradotti in tantissime lingue in tanti paesi e l'ultima opera, guardatela qui, è questa, Il primo bacio, è un libro bello, importante, che nasce da una storia in famiglia che quando l'ho letta mi ha fatto da un lato ridere e dall'altro ho detto che tenerezza. Arriviamo subito però alla storia. Quando vi siete dati Il primo bacio? È perché mi autorizzate a essere in piccione così, non ho capito, ben arrivati innanzitutto. Grazie, rispondi tu? Ma in realtà c'è stato un percorso prima di arrivare perché lei non era molto dell'idea di fare copia con me, quindi c'è stato davvero un lungo corteggiamento. Poi improvvisamente una sera in metropolitana, in mezzo a tutta la gente, lei si dichiara disponibile a cominciare una storia, ma io rimango come confuso. Qua in mezzo a tutti ho detto no, lo curiamo un po' meglio, il nostro primo bacio, gli ho ridato appuntamento al giorno dopo. Immagino che queste cose meritano attenzione. Barbara, insomma, perché il primo bacio è importante? Assolutamente, è proprio segno a un momento particolare, lo è per tutti, sicuramente lo è stato per noi, ma lo è soprattutto anche per i ragazzi che danno il loro primo bacio, perché è un'esperienza che muove dentro emozioni, che lasciano un segno, che scuote. Infatti molto spesso si trema quando si dà il primo bacio. Ecco, che succede quando si dà il primo bacio? Succede proprio che la sensazione è che il cuore impazzisce, molto spesso appunto si trema proprio fisicamente, che non si riesce a contenere questa emozione, ed è proprio perché vengono prodotte moltissime sostanze chimiche dall'emozione di quel momento, perché entrano in contatto bocca, occhi, e quindi l'intimità che si crea con qualcuno è così intensa che proprio c'è emozione, ci lega in modo intenso a questa persona, anche se poi magari il giorno dopo ci perderemo di vista. Allora, io non vi chiedo il vostro primo bacio separato e distinto, perché non so, non sarebbe carino, marito e moglie da vent'anni, ma poi, tutto sommato, ma chi se ne importa? Loro sono una coppia splendida, e giustamente Alberto ha detto, poi usciamo dalla parte strettamente personale, però immaginiamola come il racconto in un film, darle il primo bacio in metropolitana forse sarebbe stato quasi sciupare un momento che deve rimanere indimenticabile, che deve, no, quindi è bella anche questa cura e questa attenzione. Sì, credo che la parola giusta sia proprio avere cura delle cose importanti, e quindi non farle avvenire così, semplicemente perché magari c'è la possibilità, oppure perché in quel momento si dice si può andare, e credo anche che nell'amore, questo è proprio una cosa che dobbiamo insegnare anche ai nostri figli, essere sintonizzati reciprocamente sull'altro, significa proprio trovare un tempo che è il tempo di tutti e due, non solo il tempo di quell'attimo. Allora, all'inizio del libro c'è un'intervista, e poi tutto parte dalla dichiarazione di un ragazzo, questo ragazzo è nel gruppo di quelli che sto per nominare, quattro figli questa coppia, non ti do un bacio in metropolitana, ma voglio dire poi sono sposati, in vent'anni guardate che cosa, Caterina, Pietro, Alice, Jacopo, dieci, dodici, quindici, diciotto, ma dove li ha fatti i quattro figli, lei con questo... Guarda, ma belli, ma che cartolina, cartolina dai sassi di Matera, ma veramente qui l'opera d'arte è davanti ai sassi, che di per sé lo sono. Chi è Jacopo del gruppo? Il più grande, maglia blu, maglia blu. Allora, Barbara, che succede un giorno? Succede che mio figlio, quando aveva dieci anni, per la prima volta eravamo in bagno, stava per entrare a farsi la doccia, e d'improvviso inizia a parlarmi con un tono un po' serio, di come sta dicendo qualcosa di importante, e mi confida, mi dice, guarda, mamma un po' mi viene da ridere a raccontartelo, ma per la prima volta ho sentito qualcosa per una mia compagna. In quel momento io sono rimasta, ho detto, mi sta facendo una confidenza incredibile, non posso sprecarla, devo dire qualcosa di molto intenso, di molto appropriato, perché sta proprio facendo la confidenza, chissà quanto gli è costata, e ho detto la cosa più stupida che potessi dire, perché in quel momento ero così emozionata dall'intimità, dal momento particolare, dal pensare mio figlio già sull'altare, con la compagna. Già aveva già fatto le bomboniere, dottoressa lei aveva già, era l'ultimo nastro dell'ultimo sacchetto di bomboniere. Stavo appunto annodando, e allora gli ho chiesto, ma dimmi, ma cosa hai sentito nel cuoricino? lui improvvisamente mi ha guardato con aria, un po' schifata, mi ha detto, mamma puoi uscire che entro in doccia, ciao, eh? Ed è finito l'argomento. Allora, cosa si fa quando un genitore perde, avete l'idea di accumulare i punti, e in un attimo, tutti i punti che tornano a zero, è terribile. Mi prendono in giro ancora adesso. La verità è che lei raccontando questo, e la ringrazio, e voi raccontando questo, ci spiegate come l'emozione in realtà sia doppia, perché voi parlate ai genitori perché sappiano parlare ai figli. Anche i genitori non sanno cosa fare a volte, no? Da questa idea... È proprio così, è stato proprio la ragione principale per cui poi abbiamo scritto questo libro partendo da una zona faticosa, così anche un po' sorridente, ironica della nostra vita familiare. Facendo il nostro mestiere, incontriamo tantissimi genitori, e la consapevolezza che abbiamo è che è davvero difficile trovare le parole per parlare con i figli di affetti, di sentimenti, di amore, ma poi anche di sessualità. Questo è proprio un libro che si dedica all'educazione sentimentale, affettiva e sessuale, in particolare dei figli che sono in quella fase della zona di crescita che è la preadolescenza, che è una zona meravigliosa, però anche molto, molto complessa, perché in questo momento i nostri figli spesso crescono di nuovo con il deserto e il silenzio educativo dei genitori, che non riescono a dire niente, perché sono molto imbarazzati, non sanno un po' come si fa, e allo stesso tempo però navigano magari massicciamente all'interno dei loro siti pornografici o vedono una sessualità che non è assolutamente adatta a loro e restano soli. Alice, 15 anni. I genitori devono parlare ai figli di amore del primo bacio? E la domanda? Sì, senza essere invadenti e senza fare domande troppo dirette. Tutte le risposte lasciando la finestra aperta tra poco all'ora solare. Alberto Pellai e Barbara Tamborini Il primo bacio L'educazione sentimentale dei nostri figli preadolescenti edito da De Agostini. Allora, esempi concreti di educazione sentimentale proprio in questo tempo in cui, se forse prima si parlava poco perché non si sapeva come fare oggi si ha attorno una palude spesso pericolosa di, ti spiego io da parte dei non genitori da parte di internet da parte di tutto quello che potrebbe anche fare male. Allora, esempi concreti di educazione sentimentale anche qui, chi inizia? Ma io penso a sicuramente la situazione che in tutte le famiglie è quotidiana è il fatto che succedono cose che accendono domande e quindi i figli ci fanno domande che ci spiazzano molto spesso nei momenti più inaspettati e quella è un'occasione dove noi facciamo capire se abbiamo voglia di confrontarci e di parlare di certe cose o se vogliamo dare un messaggio che certe cose è meglio non chiedercele e le occasioni sono infinite. Mi è capitato un po' di tempo fa quando Caterina era più piccola che eravamo in giro in bicicletta e abbiamo parcheggiato ho parcheggiato la bicicletta davanti a una farmacia e proprio dove c'era il distributore dei preservativi e in quel caso mia figlia mi ha chiesto mamma ma cos'è questa cosa tutta colorata? Ecco, in quel momento io mi sono detta potevo parcheggiare da un'altra parte la prima cosa. Ma questo guardia tutta la nostra solidarietà nel senso che uno dice perché proprio... però in quel momento lì ho capito che questa come oppure mentre stiamo vedendo un film e c'è una scena dove due persone si capisce che stanno vivendo un momento intimo stanno facendo l'amore e qualcuno a ciclo ci ha chiesto ma cosa sta succedendo oppure l'avete fatto anche voi questa cosa qua con un po' di disgusto. All'attenzione attenzione con moto di disgusto perché e qui vengo dal papà c'è sempre io credo guardate davvero l'abbiamo provata tutti questa sensazione i nostri genitori poiché sono grandi ci sembrano completamente esenti da qualsiasi forma no? di innamoramento di affettuosità è una cosa per la quale siamo passati più o meno tutti quanti allora come si controbatte tutto questo? raccontando? Io credo che la cosa importante sia aiutare un figlio a capire che la sessualità è una cosa meravigliosa nella vita delle persone e che quando ci si vuole veramente bene ci si vuole bene poi con tutto con lo sguardo con le parole con il corpo il corpo è uno è proprio un canale di comunicazione che tu metti a disposizione per la costruzione della relazione più intima e profonda della tua vita quella amorosa quando un figlio ti dice ma anche tu mamma e papà fai queste cose io certo che voglio bene alla mamma con tutto me stesso quindi anche con tutto il mio corpo quando un figlio dice ma che schifo è importante lavorare su quell'emozione perché quando lui ci dice così noi gli possiamo rispondere guarda la sessualità è una cosa meravigliosa se tu in questo momento hai una sensazione di fastidio di disagio di imbarazzo vuol dire che in questo momento una cosa molto bella a te entra dentro con una modalità invece non giusta non corretta esatto è proprio il tuo corpo il tuo cervello che ti sta dando un messaggio importante dottore torniamo a questa fotografia mai abbastanza volte grazie per questa per questa immagine il bacio ecco riconducendo tutto al primo bacio è giusto spiegare ai ragazzi che possa anche richiedere un tempo di attesa che sicuramente ha un timer che è diverso per ognuno di noi perché non si può irregimentare questo momento ma è corretto forse ecco in questo caso dire guarda io ho aspettato un giorno in più chiaramente lui non ha dormito la sera che nel viaggio in metropolitana poi sapeva l'indomani di poter avvicinare finalmente le labbra dell'amata perché aveva deciso lei di essere l'amata si può insegnare anche questo? credo che sia davvero importante lavorando tanto con bambini e ragazzi ci accorgiamo che spesso loro raccontano già gli elementari in questo momento di aver provato a dare il loro primo bacio semplicemente come se fosse un gesto della ginnastica per vedere che cosa è o di che cosa è fatto e naturalmente poi dicono ma sapeva solo di saliva perché quello è un gesto a cui non è attaccato niente allora aiutare proprio i bambini e i ragazzi a sentire che tu puoi avere un primo bacio che è un bacio curato puoi avere un primo bacio che è un bacio improvvisato puoi avere un primo bacio che è un bacio subito i baci delle penitenze dove tu improvvisamente perché la bottiglia si ferma lì sei quello designato e quindi ti tocca ecco è proprio il gesto è sempre quello il modo in cui lo vivi è molto differente questa educazione sentimentale vale per chi lo legge prima la mamma o i figli mamma e papà o i figli questo libro ma direi che è un libro così di sicuro lo leggono prima i genitori e poi possono magari condividere alcuni passaggi con i figli in realtà ci sono 40 storie di primi baci e che sono molto godibili che ce ne sono 20 dati da ragazzi e 20 da ragazze e quindi questo è un ottimo materiale da condividere da leggere insieme perché spesso i ragazzi sono un po' sfuggenti sull'argomento io credo che quando decidono di dare il primo bacio sono un po' da soli noi non siamo sulla scena con loro lo decidono proprio loro quello che possiamo fare noi è prima creare tante occasioni dove in un qualche modo rinforzarsi non aver paura di doverlo dare subito perché poi non riescono più e aiutarli a immaginare un primo bacio bello un primo bacio pieno e un primo bacio scelto non per paura che poi scappi l'occasione il bacio più bello della storia del cinema per voi due qual è? il bacio più bello della storia del cinema? quello forse Moonrise Kingdom un film ah carino c'è un film che abbiamo amato tanto abbiamo visto tanto anche con i nostri con i nostri ragazzi ed è la storia di due preadolescenti che fuggono fondamentalmente vengono da situazioni un po' disfunzionali e si trovano fanno proprio questa fuga d'amore per arrivare su una spiaggia costruire la loro tenda hanno portato lì non vado avanti perché guardi ho già la melassa c'è il miele che sta scivolando poi scivolo con la scarpa per lo studio e c'è però lì dentro proprio una purezza e un'intimità così fase specifica cioè così adatta alla loro età che è incredibile dico un'ultima cosa del team Pellai Tamborini litigano come due galli nel pollaio quando scrivono i loro libri perché lui ha un'idea lei ne ha un'altra ma l'unione fa veramente la forza e fa leggere libri bellissimi grazie a voi grazie di essere stati all'ora solare e perdonate l'insolenza ma quella domanda ci voleva proprio grazie grazie a voi